Continua ricerca dell'autoperfezionamento, codice d'onore da rispettare rigorosamente, massima padronanza della propria spada e rifiuto per il fallimento, sono doti che rispecchiano una classe di nobili guerrieri che dominarono lungo tutto il periodo del feudalesimo in Giappone. Avvolti da un velo di fascino e mistero, stiamo parlando ovviamente dei guerrieri samurai. Ma chi erano questi nobili guerrieri? Qual era il loro compito e cosa li contraddistingue dagli altri guerrieri, come ad esempio i cavalieri in Europa? In un periodo come il feudalesimo in Giappone, dove le lotte interne erano all'ordine del giorno, i signori Daimo, che si spartivano l'impero giapponese, arruolavano nel loro esercito i samurai, guerrieri che, come dice la parola stessa, dipendenti, si mettevano al servizio del loro padrone. Il ruolo del samurai era quello di combattere per il proprio signore mantenendo la stabilità e l'equilibrio per tutto il paese. Grazie al codice d'onore che seguivano, rendeva questi guerrieri un esempio di nobiltà e di purezza. Il codice in questione veniva chiamato Bushido, ovvero la via del guerriero. Era un insieme di dure regole che i guerrieri samurai rispettavano rigorosamente, come l'onore, la fedeltà assoluta per il proprio padrone, la ricerca continua per il miglioramento personale e il rifiuto per il fallimento. Per quanto riguarda l'onore, se un guerriero aveva una colpa o un fallimento a suo parere da dover scontare, praticava un gesto estremo di nome Akiri, ovvero taglio del ventre. Con questo gesto il guerriero avrebbe compiuto un suicidio con la propria katana e, secondo il Bushido, avrebbe consentito di morire con onore, cancellando le proprie colpe e i propri fallimenti. Il samurai poteva compiere l'Akiri anche se rimaneva senza il proprio padrone. In alternativa, se non si fosse quindi suicidato, sarebbe diventato un ronin, ovvero un guerriero privo di onore e senza un padrone. E sarebbe stato costretto a vagare per il paese senza una meta e senza combattere per nessuno. Questi erano i gloriosi guerrieri samurai, se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un bel like e ad iscriverti al canale attivando la campanella per non perderti le prossime curiosità sul canale. Io ti aspetto in un nuovo video, grazie per la visione!